Qui è Covi, arte, rap, rap e arte, adesso tocca a Michelangelo, classe 1475 Michelangelo era un tipo solitario, attaccato ai soldi, era un tipo permaloso Anch'io sono abbastanza permaloso Fai ciò che ti senti, sogni li vendi, l'anima nelle mani di Dio Il corpo alla terra e bene i parenti, conta ciò che fai dopo quello che apprendi Ognuno ha le proprie paure, e so che anche tu e le tue Noi permalosi giriamo col cuore di marmo, come le opere sue Ironia della sorte, era attaccato ai soldi, l'hanno messo sulle banconote da 10.000 lire Non so neanche se l'ho mai visto io 10.000 lire Era talmente sicuro che avrebbe sfondato, che andò a prendere il marmo Anche se nessuno gliel'aveva commissionato Era artista e anche manager di se stesso Immersi nell'arte, fuori dai film Nei spogliati d'orgoglio più nudi e più crudi fra come il Davide Geniali e requeti noi siamo così Amo ciò che è diverso, non importa del resto A volte l'allievo superrà il maestro La storia di Davide contro Golia Ci insegna che è meglio usare il cervello della forza brutta A volte l'allievo superrà il cervello della forza brutta Grazie a tutti